bentornati anche oggi ti voglio parlare di una ricetta fantastica per la colazione ovvero la crema budwig la crema budwig è stata proposta dalla dottoressa kusmin ideatrice della dieta kusmin appunto tale crema come capirai è una esplosione di nutrienti nutrienti fondamentali per la nostra salute troveremo proteine acidi grassi polinsaturi fibre vitamine minerali zuccheri semplici e complessi tutti nutrienti che vengono da alimenti freschi vivi e vitali e per questo energeticamente molto potenti per vari motivi la puoi preparare a casa in pochi minuti il procedimento è questo e te lo dico innanzitutto quali sono gli ingredienti i semi oleosi come mandorle anacardi nocciole semi di zucca o pinoli i semi di lino dei cereali integrali come per esempio i fiocchi di avena che ti consiglio che sono molto ricchi di fibre mezzo limone dello yogurt bianco intero il miele e della frutta fresca quindi come si prepara la crema budwig devi tritare grossolanamente i semi oleosi scegliendo tra due cucchiaini a scelta tra appunto mandorle anacardi nocciole e aggiungere un cucchiaino di semi di lino tritati tritare i semi di lino serve per aumentarne la biodisponibilità di per aumentare la biodisponibilità dei grassi buoni della serie omega 3 vegetali contenuti appunto nei semi di lini di lino aggiungi un cucchiaino di fiocchi di avena e poi mesco mescola il tutto con il succo di mezzo limone due cucchiai di yogurt bianco intero un cucchiaino di mail di miele e 100 grammi di frutta fresca le porzioni che ti ho dato sono delle porzioni medie è chiaro che tali quantità possono essere assolutamente personalizzate in base al metabolismo in base alle proprie esigenze caloriche se c'è un'attività fisica importante quindi sicuramente per una persona sportiva e le porzioni possono essere assolutamente aumentate quindi ti consiglio di provare questa colazione questa crema budwig e poi fammi sapere se se ti piace continua a seguirmi sul mio blog www.dietistaroma.com ti aspetto sempre con nuovi e interessanti articoli a presto